Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con Marci, Eren e Tech Ciao a tutti Ragazzi siamo sempre qui a fare The Hub Quindi ti ridò in partita E Marci non sa giocare quindi perderà brutalmente Ciao, sono uno schifo Uno schifo Sì, sì, non farci schifoso Ok ragazzi eccoci nella prima partita Sta come al solito scegliamo i miei giochi Pig Racing Tanta roba Ballon poop No E Crazy Paint Però Crazy Paint mi piace Vabbè, sono belli, a me piacciono Sono stupendi ragazzi Allora Marci siccome tu non l'hai mai fatto a Pig Racing te lo dico subito Praticamente avrai due oggetti nell'inventario Una mela e uno smeraldo Tu per andare avanti devi prendere lo smeraldo Cliccarci con il destro sullo smeraldo Capito? Ok E il tuo maialino andrà avanti Se tu hai la mela torni al primo step Ok basta Quindi ragazzi qui bisogna pagare tantissimo Lo smeraldo? Giusto? Sì, lo smeraldo C'è scritto Go quando ci andate Ma io che colore sono? E non lo puoi sapere, ci viene scritto sul coso lì Allora adesso sono pronto io Ok Dai Ah ma col destro Sì sì col destro C'è tante volte perché se clicchi la mela Torni all'inizio E questo è devastante Ti stende come cosa E poi col cavolo che dice mai deboli Ok Che merda No regà Sono arrivato Ciccino Primo Ragazzi Metano, aereo e tech Non ho guardato fino alla fine Io non potevo vedere perché Madonna Ragazzi è bellissima questa Che figo A me rimasta la mela nell'inventario Back to start Sto vedendo Ma si sa Oh spiegate cos'è questo Regà Sparare palloncini Esatto Più palloncini fai esplodere E più punti fai Ovviamente c'è metano che è lezzo Dai Naturalmente ti consiglio di puntare alla TNT Almeno all'inizio No no Sei pazzo Ma che merda è metano che non glielo dici Io Stai scherzando Ma lo beccate Non prendo tipo 2-3 Ok Ah è già finito? No 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 Di continuare Continua Ora Quando ovviamente finisci le TNT Di prendere i palloncini No guarda Non l'avevo capito Guarda veramente Troppo simpa Troppo lezzo Troppo simpa Ti doi consigli Ti lamenti Non c'ho parole Io ti direi anche un'altra cosa Se noti ci sono dei blocchi d'oro Non è vero Sì Davvero? Non ci ho mai fatto caso a queste cose Cioè non so se danno punti Differenti oppure no Dovrei informarmi Perché è una cosa che non ho mai capito Io non so Io eri dando una penalità Eren sei il secondo Ah no Scherzo Eri il secondo Perché stronzo? Io non guardo No veramente Comunque vabbè sei terzo Non è male Vediamo Io questo qua non riesco Non ci riesco Cioè è più forte di me Metano Ma vabbè è bordello sta cosa Ragazzi 20 secondi Non ci reggo Cavolo Dai troppo Ragazzi ma lagga Non è vero A me non ti era mai laggato No ogni tanto non ti prende le cose Non è che lagga Quello io non so perché Ogni tanto non esplodono Ma non me lo so spiegare il motivo Cioè Ecco ancora Non so se è colpa della freccia poco caricata Se è altro Non ne ho la minima idea Ma secondo voi ci sono differenze Tra i colori e le distanze Io sinceramente non lo so Terzo Un anima Grande Grande Non terzo no Sto imparando anch'io Eren Se fai tre punti O due punti E io non faccio nemmeno un punto Hai vinto Eh sì vabbè adesso non esageriamo No no Questo lo so Tipo devi camminare in giro Devi collare tutto qua Clicchi Allora premi tenuto destro E sfai ovunque No no Marcia Fidati di me È il sinistro Lui ti vuole imbrogliare È il sinistro Io sono una brava persona Non ti mentirei mai Ma da Marci Secondo me O tecchio metano sono gialli Perché? Perché già vedo cose che non mi piacciono Ma se No vabbè mica Guarda io vedo tanto verde e tanto blu Se è per questo Cioè cosa vuol dire? Cioè mica siamo tutti lezzi Eh man Bisogna concentrarsi No non è vero Sì 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 No no Qua serve Qua serve la concentrazione ragazzi Altro che Ok Ma è figliissimo Tec primo Guardate tec primo Quale è il colore che c'è di più? Celeste Tec è per forza celeste Ce n'è troppo No non è vero Io sono giallo Sono io giallo Tu sei celeste Merda Che schifo Tec for schifo Sei celeste Ammettelo Non ti miro Però devi ammettelo Un po' di tattica Guardalo Che schifo Io sono ciano Credo Io non so nemmeno Che colore sia Il ciano Ragazzi È quel Che lezzo Turchese Non so come Per me Dice rosso Verde Blu Giallo Punto Tutti questi colori qui Io sto cercando di Detronizzare tec Ma Cioè Ha colorato ovunque Sì vabbè Lui Vabbè Ha divinto casa Almeno questo Se devo dipingere casa Chiamo lui Non lo so Ti lancio i secchi Tre punti Ragazzi Ragazzi Allora vabbè Ovviamente ho vinto io Perché Metano Complimenti e applauso Però ragazzi Siamo tutti sul podio Ma io sono il secondo Cos'hai detto Tutti sul podio Vabbè Non c'è il posto Per la quarta persona Però Vabbè Ma c'è zero punti Ok Grande E vabbè Ma è debole Marce Mai vincitore Ok Eccoci anche nella seconda partita Questa è la rivincita di Marce Ovviamente Ovviamente Si comincia con i minigiochi Più schifosi del mondo Boh Spiegatemi Ok Ah anche Pig's Racing Il secondo non lo so Su Gold Rush Semplicemente noi siamo Dei minatori Lezzissimi Incalliti Che vogliono prendere Tutto l'oro del mondo Quindi Avremo un piccone E dobbiamo semplicemente Scavare l'oro Che automaticamente Si rigenera Però dopo un po' Nei blocchi in cui l'abbiamo scavato Quindi come potete vedere Intorno c'è l'oro Dovete andare lì a scavarlo Chi penne più oro Vince Molto semplicemente Non l'avevo immaginato Su sta cosa Sai Eh lo so Guarda l'immunomazione È dura È dura È dura Questo è duro Veramente No questo qua Veramente è durissimo Perché ragazzi Se siamo in tanti Se siamo in tanti E siamo in tanti Praticamente c'è la gente Che viene a rubare l'oro E quando rubano l'oro Smatto io C'è Taccagno fino all'ultimo Ah ti conosciamo Ti conosciamo Guardate C'ho già uno qui che ruba Smettono di rubarmi l'oro Rubate l'oro Tutti a metano Ragazzi No dai ragazzi No mi sono Buggato in un blocco Basta Come ti sei buggato In un blocco Perché vedete Ognuno ha il suo pezzettino qui Cioè basterebbe Che ognuno stia nel suo pezzo Ma no Arrivando lì Che deve viaggiare Non è fare così Deve viaggiare E prendere tutte le cose Tipo Tacca qui Schifosissimo Questo pirla qui Che mi ruba tutto l'oro No Tacca Vai dall'altra parte Così ci facciamo concorrenza E basta Ma sì sì Voglio vincere Ma guarda C'è il primo Marchi Marchi secondo Ragazzi Zitto questo Marchi A quanto siete voi? Io non lo so ragazzi 32 Io sono a 28 Ma stiamo scherzando Eh anch'io sono indietro Eh sì ma qua è dura Perché c'è uno Qui con me Che rompe le palle Eh ma anche Anche io in tre secondi Mi trovo uno differente davanti Eh devo girare Non tu sai Aaron Non te lo dico 50 50 Sei serio? Ma te che mi hai rubato il posto Tu money grabber sei Guarda Tec fai schifo Tec dimmi quanto hai Così io non so quante speranze ho Di arrivare dove sei te No no C'è troppo poca ore in giro No Ragazzi Io ero solo qui Io ero solo Quanto hai fatto Aaron? Io ho fatto 55 Ho 60 E qualcosa Ragazzi Io mangi la vita Mamma mia E il più difficile di tutti Insieme a Pettano 0 punti Cos'è questo? Cos'è? Ah quindi Colpire i mob Esatto Ne frecce È evidente Ti va a chiappa la talpa O schiaccia la talpa Non mi ricordo come si chiamava Bordello È bordellissimo Eh esatto Questo gioco qui ti stende Guarda Ah mi stende proprio? Eh sì Io Qua sto al trucchettino però Ma non ci riuscirò mai nella vita Perché la mia mira fa abbastanza schifo Su Minecraft Io lo so al trucchettino E ci provo Qual è il trucchetto? Dimmelo Prendere quelli lontani Sì ma io so già dove mirare Ok Ma di spawn Ma tipo Sì sì di spawn Dopo poco Oh no Direi vero forse Fino a che non li colpiscono Non l'ho mai capita questa cosa qui Perché è difficile capire Quando li colpiscono Poi sono strani però Ok No dai Ho colpito quello davanti per sbaglio Ma che mira Ma che merda Ma mi fai prendere quelli in fondo Scusa Eh so Io so già dove mirare Eh devi essere un mastro arciere Ho già calcolato le distanze e tutto Io Ma non ti fai spunto Hai puntini praticamente disegnati sul volo Sì Praticamente c'hai punti disegnati sullo schermo Sì ragazzi Ma io non ne sto più prendendo uno Perché me li fregano tutti Eh non mirare qui in fondo Li sto mirando io E davanti Devi levare Io quelli sulla destra li sto prendendo tutti ora Ah io sono a sinistra E allora Non te li sto mirando nemmeno Se ne approfitta Non sono io No l'ho mancato tantissimo No ragazzi ve lo giuro Tutti io li sto prendendo quelli a destra Sono a 700 punti Voi quanto siete? Sì 60 No ragazzi No ragazzi Me li rubano tutti Eh beh così Ma così Io avevo problemi di lag una volta Ragazzi sono a 900 punti Dai road to 1000 Road to 1000 Noo 950 Vai Mi sono impegnato Ho parlato ma mi sono impegnato Ragazzi ok Io sono a pari merito con Eren Che ha vinto la prima Quindi siamo 3 3 Ma da marci 2 E tech Quanto sei te tech 2? Eh sì Però quando Pig racing ragazzi Quando mi abbatte nessuno Io qua mi metto in un angolino Qua Sì sì Non guardo niente Non guardo niente Ma anche io non guardo Io non guardo i maiali Io mi sposto semplicemente la visuale Quando vedo che mi passano davanti Vediamo Ok Qua la massima concentrazione ragazzi Mi raccomando Anzi no Non concentrati Che schieno c'è qua? Dai Dai Metano lo so Che ce la puoi fare Metano lo so Qualcuno è tornato indietro No 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 Oddio Oddio Stavo per cliccare male Dai Che tanto poi Chi guarda il video Lo sa già dove sono Io quindi sa già Se sto per vincere oppure no Poi non riesco nemmeno A guardare la visuale Né niente No L'ho sbagliato Sì cazzo Grande te Ero davanti Mai debole Mai debole te Io no Io non sto sbagliando Io non sto sbagliando Ero davantissimo Ma voi fate quella rotellina O quelle con i numeri Io numeri e rotellina E la tattica Io non ce la faccio Ero davanti ragazzi Questo qui mi fa venire Troppo l'ansia Raga Tipo Ero davanti No No Eric 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 Di quanto Eric Di quanto mi hai battuto Non lo so Non stavo guardando Ma da marci terzo Mamma mia Le soddisfazioni nel battere metano Nel suo video pure Ma no Ma di pochissimo Sicuramente sarà stato di un blocco o due Ma da marci terzo Ma è mega Comunque Secondo Non mi lamenta Ma se sei fuori dal podio Non sei terzo No vabbè Ha fatto due punti come gli altri Quindi ha pari merito E' migliore Ok ragazzi Allora devo dire Che questa volta Forse è una delle prime Che è stata abbastanza sudata Perché veramente C'è stata competizione Eh sì Con le altre volte Comunque Come al solito I canali di questi lezzini Li trovate in descrizione Spero che il video vi sia piaciuto Ed è Ciao a tutti De De Ciao Ciao a tutti De Comunque Eren fa schifo Ciao a tutti